Vuoi scoprire la mia Svizzera? Ti porto con me. Ciao a tutti, io sono Carlotta, sommelier, degustatrice e appassionata di vino. Insieme a svizzera.it siamo andati a esplorare Ginevra e Lausanna. Esplorando la città di Lausanna era ricca di vibrazioni, di energia, una città giovanile, dinamica, ricca di cultura, di design e dal fascino storico non è mancata la vista mozzafiato dalla torre della cattedrale di Lausanna. Successivamente un pranzo in campagna ad esplorare proprio che cosa c'è al di fuori della città di Lausanna e poi successivamente una cena vista lago. Ginevra invece è una città magnifica, maestosa, con i suoi palazzi, molto elegante. Appena arrivati siamo andati a pranzare di Stalago e poi alla scoperta dei vigneti. Poi siamo andati a una degustazione con la presenza dello chef sommelier Michael Groux dell'hotel Bourrivage e poi abbiamo continuato l'esperienza concludendo con una cena nel prestigioso wine club proprio accanto all'albergo Bagheira Wines. Mi sto godendo l'ultimo giorno qui a Ginevra con una pesca sul lago. Voi seguiteci per saperne di più su svizzera.it.